stavo per fare ciao e invece sigla ciao ragazzi ragazzi eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo video un video spin it with me temptation island edition perché raga lo so che ormai siamo a ottobre ma c'è questo triangolo formato da mirko greta e perla che sta continuando a darci soddisfazioni a non finire nonostante il programma sia finito tipo ormai da due mesi e mezzo ma cosa è successo oggi preparatevi mettetevi comodi andate a prendere il vostro snack drink preferito io per l'occasione ho l'acqua qua dentro lo so è acqua ma ho promesso di bere meno bevande gassate anche se l'acqua qui dentro è gassata quindi I don't know tra le altre cose nel mentre che voi mettete like a questo video perché non ne abbiamo mai abbastanza del gossip temptations fino all'arrivo di temptation winter condotto da filippo bisciglia lo sappiamo ormai ufficiale lo ha detto addirittura lui in prima persona vi voglio dire che questo video non era preventivato io oggi non dovevo fare nessun video però vie ragioni nel mio viso perché ho fatto dei trattamenti e siccome non posso truccarmi ho detto non posso fare il video ma non posso al tempo stesso lasciarvi orfani di questo gossip quindi fate finta di niente fate finta che sia sempre perfero tanto l'argomento di oggi è un triangolo e soprattutto ragazze ragazzi sembrerebbe che greta e mirko siano durati quanto un gatto in tangenziale perché 99 su 100 si sono lasciati noi l'avevamo detto ma non abbiamo la certezza andiamo indietro nel tempo perché vi devo raccontare tutto quello che è successo e come mai siamo tornati a parlare di loro io ero lì nei meandri di instagram quando mi appare una storia di greta in cui mostrava il suo cagnolino e diceva il mio unico grande amore nella storia subito dopo la stessa greta si riprende mentre fuori casa e chiacchiera dicendo che comunque non era un periodo molto bello per lei e nella didascalia c'è scritto questo scusatemi ma oggi sto un po' così le persone ovviamente non se lo son fatto di due volte e già sul tutto twitter c'era il greta e mirko si sono già lasciati gate ma come mai direte voi greta sta male in queste storie come mai ha scritto che il suo cane è il suo unico vero amore se fino a cinque giorni fa il suo unico vero amore era mirko che aveva conosciuto a temptation island e che ha lasciato la fidanzata perla dopo cinque anni per lei ebbene ragazzi greta ha pubblicato queste stories perché qualche ora prima sia mirko che perla hanno partecipato ad una sfilata come ospiti naturalmente non è che hanno fatto i modelli per la milano fashion week che dio volesse grazie dio è finita e quindi adesso possiamo ritrovare taxi e dio volesse grazie dio è finita perché io sono geloso perché non sono stato invitato a nessun evento anyway hanno partecipato appunto a questa sfilata ma anche se non erano insieme il luogo era lo stesso e nella storia di perla addirittura ci sarebbe inquadrato mirko ora io l'ho un po' zoomata probabilmente uno di quei maschi che sono in piedi uno di quei tre forse quello nel mezzo e questo raga ha dato molta noia a greta ma non solo a greta perché per colpa di queste due instagram stories ma soprattutto per la storia di perla dove è stato inquadrato anche mirko su tutto internet i fan di temptation island i fan di uno o dell'altra coppia sono impazziti perché hanno gridato allo scandalo hanno gridato al complotto per quanto riguarda questo triangolo amoroso perché moltissimi hanno pensato che mirko e greta si siano lasciati e perla e mirko si siano riavvicinati anche perché nella puntata di uomini e donne l'ultimo confronto perla e mirko se ne erano detti di tutti i olori ma in molti hanno visto lo sguardo di perla che dicono essere ancora innamorata e quindi avevano iniziato un po' a scommettere su quanto tempo doveva passare prima che i due si rimettessero insieme bene praticamente il gossip è questo perla e mirko se la stanno rifacendo a discapito della nuova fidanzata di mirko greta che incurante di tutto era rimasta a casa e che ha scoperto il tutto tramite queste instagram stories non lo dico io che l'ha scoperto così tramite instagram stories ma lo dice lei ma andiamo per gradi perché sempre tornando nel profilo instagram di greta greta si sfoga dicendo questo mi state mandando un sacco di messaggi in merito alle persone presenti alla sfilata di ieri scrivendomi che è stato fatto appositamente per hype non lo so e neanche mi interessa vi avevo chiesto esplicitamente di non essere più associata a queste cose sono fatti loro io mi dissocio da tutto ciò sicuramente non ho voluto crearlo io l'episodio di ieri perché non ero presente in quanto in buona fede sono andata allo stadio con mia nonna ora prendo la giornata un po' per me ne ho bisogno ci sentiamo stasera siete dolci sempre grazie e poi continua ci tengo a precisare l'ultima cosa per me non c'è nessun problema che due ex sono nello stesso posto anzi sono io la prima che ve l'ho sempre detto il problema che mi state sottolineando voi cioè i fan sono i video che pensate sono fatti palesemente apposta per hype includendo anche me in questo quando vi ho chiesto già da qualche giorno di non mettermi più in mezzo nelle loro cose e ripeto che io non ero presente quindi non sapevo neanche dell'esistenza di questi video in quanto non sono stati fatti da me e neanche sapevo preciso solo per voi perché giustamente in quanto ci seguite meritate spiegazioni ora in queste due instagram stories si sente un po' di astio di greta verso mirko anche soprattutto anche perché è stato accusato in poche parole d'aver fatto quella stories in concomitanza con perla e soprattutto che erano d'accordo loro due soltanto per far parlare di sé e quindi lei siccome con questi giochini non vuole più avere a che fare ha proprio esplicitamente detto io non centro nulla non ci voglio rientrare a nulla non ne so nulla e queste robe anche secondo me sono state fatte per questa roba per questa ragione per hype ho bisogno di stare un po' da per conto mio grazie mille a tutti ora capite perché tutti pensiamo che si siano lasciati greta e mirko perché come è possibile una risposta del genere cioè devi essere arrabbiata veramente col tuo fidanzato ma le persone si sono chieste ma ti puoi arrabbiare semplicemente perché il tuo fidanzato è ad un evento mondano in cui è presente la sua ex ma palesemente non sono a sedere accanto e quindi non sono arrivati insieme come mai ti sei arrabbiata così tanto anche perché qualche tempo fa anche te sei stata a cena con il tuo ex e nonostante le polemiche mirko non è che ha detto tanto contro di te come mai te hai così questo questa rabbia no c'è qualcosa che non ci volete dire c'è qualcosa che ci tenete nascosto molto probabilmente vuoi vedere che si sono lasciati perché greta e mirko si sono riavvicinati ebbene dopo questa cosa perla che si è sentita ovviamente in dovere di rispondere a queste critiche e a questo gossip ha scritto anche lei un lungo pensiero su una sua instagram stories tre ore dopo quella di greta praticamente quindi è anche una risposta a lei e adesso ve lo vado a leggere perché perla le chiederà anche scusa e scrive ragazzi chiarisco la situazione una volta per tutte perché mi sembra assurdo quello che sto leggendo arrivare a dire che io e mirko siamo d'accordo mi sembra davvero una pazzia anche perché se un minimo mi avete conosciuta all'interno del programma penso abbiate capito che io non accetterei mai che il mio fidanzato stia con un'altra persona solo per fare hype mi stavo godendo la mia vita in maniera spensierata capisco però che a tutto questo debba dare una giustificazione perché non mi piace passare per la persona che non sono alla sfilata a cui ho partecipato era presente anche mirko ma non era con me eravamo entrambi con persone diverse e non era mia intenzione inquadrarlo nel video della storia ma la prospettiva delle modelle che sfilavano purtroppo era quella e anzi chiedo scusa anche a greta se ha potuto darle fastidio dopo tutto quello che è successo ci siamo salutati da persone mature e che hanno vissuto una storia di cinque anni anche perché abbiamo chiarito telefonicamente proprio per poterci vivere le nostre vite frequentazioni senza rabbia e rancori tengo a precisare che non voglio essere causa di litigi tra loro ognuno si vive la propria frequentazione come meglio crede io sarò più attenta a evitare determinate situazioni però vi prego di non associarmi più alla sua vita perché ad oggi non ne faccio più parte essere messa in dubbio dopo tutto quello che ho passato mi sembra una follia e tutto questo mi fa ancora più male ora con questa stories abbiamo una prima risposta se non sappiamo ancora se greta e mirko si sono lasciati sappiamo però che il motivo non è perché mirko si è rimeso con con perla dato che perla con questo lungo sfogo non solo chiede scusa a greta se magari dovesse averle dato fastidio l'aver inquadrato il suo ex in una sua instagram stories ma ribadisce anche il concetto che da temptation island loro due non si sono più frequentati ma che anzi dopo uomini e donne si sono chiamati e si sono chiariti telefonicamente proprio per non dover vivere queste vicende un po così imbarazzanti quando ci sono appunto degli eventi mondani in cui sono invitati tutti e due ma secondo voi la situation è finita qui e no ragazzi perché se no perché io dovevo facci un video ho aspettato un po prima di dirvi queste notizie che ormai sono di tipo due giorni fa perché ero sicuro che mancava qualcosa ero sicuro che all'appello mancava appunto la parte di mirko che è arrivata appunto sei ore fa ragazzi e quindi ieri voi lo vedete oggi quindi per voi è ieri mirko in queste ore ha rotto il silenzio e anche lui ha detto la sua per quanto riguarda la sfilata gate e andiamo a leggere insieme le stories che ha scritto ragazze ragazzi eccomi mi sono preso del tempo perché è una situazione che non mi fa stare bene anzi ci sto di merda e la mia priorità era chiarire la situazione con greta e farle capire la semplicità della dinamica di quanto accaduto sempre per greta mi sono accertato di non andare all'evento nello stesso orario di perla proprio per evitare fraintendimenti e gossip ma non avrei mai immaginato di dover giustificare niente del genere se questo basta per creare dubbi su di me dopo che ho consentito a cene ed uscite con ex ed averla comunque difesa a mie spese va benissimo ma ancora una volta mi sento di poter andare a testa alta raga questa è una storia contro la sua fidanzata contro greta cioè le rinfaccia il fatto che lui l'avrebbe difesa quando è uscita la notizia che greta era appunto a cena con il suo ex penso luca rodigo rodigo vabbè un ex di uomini e donne e dice che non si doveva giustificare per una cosa del genere ma se questo basta per non essere creduto e per mettere in dubbio la sua persona va benissimo dopo questa storia anch'io sinceramente ho detto ma effettivamente probabilmente greta un po' perché essere gelosi e creare tutto questo casino magari anche tra di loro perché comunque sono fidanzati raga si manderanno dei messaggi si chiameranno per chiarire oltre che farlo su internet davanti a tutti se se lui ha scritto una cosa del genere evidentemente lei lo ha aggredito tra virgolette perché arrabbiata nera per questo fatto della sfilata insieme a perla e io mi son detto ma perché nel senso ok essere gelosi ma in questo modo c'è qualcosa che non va arriverà la risposta a questo ma prima mirko continua con una seconda storia in cui scrive apro e chiudo parentesi la storia con perla è finita insieme a temptation island chiunque vuoi voglia alimentare altro sappiate che lo fa in malafede e perché fa comodo così quindi dopo perla anche mirko ha riconfermato che non c'è nessun ritorno di fiamma tra mirko e perla ma ancora dopo questa seconda stories non sappiamo se mirko e greta stiano ancora insieme o se si sono lasciati dopo la sfilata gate ma ovviamente ragazzi la storia non finisce qua perché dopo queste instagram stories greta ha smesso di seguire mirko su instagram e mirko ha smesso di seguire greta su instagram il che ragazzi al giorno d'oggi quando una coppia si smette di seguire su instagram significa che si è lasciata e non lo dico io lo dice la storia perché se no unfollowarvi ma ragazzi ci pensa greta dopo aver detto che non vuole parlare su questa faccenda non vuole che le siano mandati messaggi video foto riguardanti mirko e perla pubblica delle instagram stories preparatevi perché sono lunghe quindi le dividiamo in snap come ha fatto lei quindi faremo l'analisi logica e grammaticale insieme dove si lascia andare ad un lungo sfogo per quanto riguarda questa situazione e cui scopriremo i motivi per cui lei si è incazzé così tanto per una semplice sfilata se la regia manda la prima instagram stories di greta possiamo iniziare ad analizzarla scusatemi ragazzi sono un po sotto shock non voglio fare il vittimismo ma stavo uscendo dalla doccia mia sorella viene lì mi fa vedere la storia di mirko e non mi fa anche schifo questa cosa che devo replicare qua ma difenderà assolutamente la mia immagine non so come gli sia venuto in mente fare una roba del genere perché proprio fuori di testa ad oggi dopo che sbaglia perché domenica ha sbagliato non andare all'evento non a vedersi con saperla perché per me non c'è assolutamente nessun problema lui lo sa benissimo anzi gli ho consigliato io di parlarci di scriverci di vederla di chiarire perché io sono la prima ad avere un buonissimo rapporto con gli ex però a differenza sua io se vedo un mio ex un mio amico se vado a fare una serata lui è il primo a saperlo io invece non lo sapevo cioè a me lui io sono arrabbiata per domenica perché lui mi ha detto bugie sull'evento stesso cioè io sapevo che lui doveva andare ma lui sapeva benissimo che c'era lei e non me l'ha detto lui l'ha salutata io gli ho chiesto e mi è stato negato ho saputo tutto tramite delle storie in questo primo minuto abbiamo scoperto perché è successo tutto questo finimondo perché sembrerebbe che mirko abbia mentito a greta sulla presenza di perla a questo evento perché appunto greta dice mirko lo sapeva che c'era greta io le ho quando l'ho scoperto le ho anche io ho anche chiesto vi siete salutati e mirko ha detto di no quando in realtà nella storia di perla che vi ho letto prima perla ha detto ci siamo salutati come persone adulte e soprattutto greta dice ma mentito perché io è vero che anche che ho dei buoni rapporti con i miei ex ma se li vedo mirko il primo a saperlo e soprattutto io sono stata la prima a dire a mirko chiarisci con perla ci mancherebbe altro e la tua ex e tutto quanto ma te mi hai detto una bugia perché per quale motivo c'è qualcosa sotto perché se no se te non hai un secondo fine se io ti chiedo c'è anche perla a quell'evento e te mi rispondi di no e poi vengo a scoprire che in realtà c'era e ti chiedo ma l'hai salutata e te mi dici di no e poi vengo a scoprire che invece sì perché mi devi nascondere un semplice saluto cosa c'è che non va ma greta continua con questo secondo snap mettetevi voi un secondo nei miei panni dove tu ti fidi di una persona e lui ti racconta una bugia perché potrebbe benissimo dirmi guarda sono andata o l'ho vista e pazienza cioè l'evento è lo stesso ok invece no mi ha raccontato tutte queste piccole bugie dove è normale che poi tu da donna non ti fidi quando veniamo già da un episodio di bugia che mi disse un po di tempo fa che ora non sto qua raccontarvelo perché sono una signora e mi dispiace anche fare questa buffonata però essendo che l'ha tirato fuori i nostri problemi sui social lui io mi devo difendere veniamo già da una bugia grande che lui mi ha detto quindi invece che dimostrarmi mi dici un'altra bugia che può essere anche piccola ma sommata quella ovviamente voi vi fidereste no ovviamente perché poi ti fai film mentale e pensi perché non ti viene a dire che l'ha salutata perché se io lo chiedo io te lo nega è normale che poi da una cosa piccola diventa grande questo è quello che vi ho raccontato ok quello che vi ho detto quello che penso anch'io e lei in questo secondo snap ci cala l'asso ancora di più perché dice io mi sono incazzata molto in questa cosa non solo per queste bugie ma perché soprattutto in passato è già successa una cosa del genere in cui lui mi ha mentito mi ha detto una cosa grave da quello che ho capito è una cosa pesante che non ha voluto spiegare qua e quindi te fidanzato mio che hai già fatto questa cosa dicendomi una bugia in passato invece di dimostrarmi no che mi posso fidare di te continui a seminare altre piccole bugie è normale che io da donna e da tua fidanzata alla fine non mi fido più e qui io le devo dar ragione ragazzi ma non è finita qua perché c'è un terzo snap quindi il problema non è assolutamente che lui si sia visto con la sua ex anzi sono stata io a dirgli scriveli parlatevi chiaritevi chiaritevi è brutto questo rapporto perché avete condiviso tanto sono io che gli consiglio qualsiasi cosa sono io la prima che vede il mio ex che ho un buon rapporto perché odio le guerre odio i litigi odio tutto di tutto io ho problemi se lui vede la sua ex a una sfilata assolutamente no quindi togliamo proprio questa cosa che Greta vede il suo ex e lui non può farlo perché lui è liberissimo lo sa benissimo di vedere e fare quello che vuole l'ho sempre detto ma perché io sono fatta così io mi fido della persona che accanto però quando voi mi dicono le bugie la fiducia la perde in un attimo e la cosa peggiore è che lui invece che chiamarmi più e più volte sì è vero l'ha fatto due giorni per l'amor di dio ma oggi invece che chiamare me va a mettere una storia a infangare me a parlare dei nostri problemi sui social ma proprio cioè per me non esistono queste cose cioè c'è teatro e teatro questo è proprio l'apice e qui ragazzi boh continuano le peggio cose perché continua Greta a calare assi da 90 qui abbiamo capito che lei innanzitutto secondo me in queste stories ha detto tutto ha chiarito tutto e ha messo a tacere tutte le polemiche per quanto la riguardano per quanto per quando lei aveva rivisto l'ex per quando lei si è arrabbiata appunto per questa sfilata gate per tutte queste cose perché ha spiegato per filo e per segno quello che pensa lei ma c'è un dettaglio che inizialmente non avevo preso lei dice te mio fidanzato sai che c'è un problema con me e invece di chiamarmi per parlare per chiarire di persona scrivi quelle instagram stories così davanti a tutti spiattellando i nostri problemi la nostra vita privata prima che lo sappia io e poi dice è vero mi hai chiamato due giorni tipo penso ieri e ieri l'altro ma oggi invece di scrivere ste robe perché non l'hai detti a me quindi ragazzi non l'ha detto raga ma si sono lasciati perché secondo me si sono lasciati perché queste sono parole due persone che si sono lasciate ma continua raga con l'ultimo snap che è questo solo queste storie in difesa mia perché ovviamente mi state chiedendo spiegazioni non volevo date ma non avrei voluto darvele cioè avrei voluto piuttosto chiarire con lui e arrivare la nostra soluzione per il nostro bene non avrei voluto fare questo io l'altro giorno ho fatto delle storie dove mi dissociavo da quello che è successo ma non ho mai detto la mia relazione è finita lui ha voluto creare questo io voglio proprio dissociarmi perché usare la mia relazione come teatrino sui social abbiamo fatto fin troppo e mi fa veramente schifo e male soprattutto perché se oggi rimango troppo no ridevo perché mi ha fatto ridere non ne voglio parlare sono quattro minuti che fai storie in cui ne parli però ha fatto bene io raga non pensavo ma do ragione a lei ma in quest'ultima storia dove ripete le solite cose che abbiamo ripetuto anche noi c'è un dettaglio lei dice io l'altro giorno vi ho messo quelle storie in cui mi dissociavo da tutto questo teatrino ma non ho mai detto che è finita la nostra relazione poi lui invece ha voluto fare così raga io l'italiano ancora lo so lo so poco ma lo so si sono lasciati ma non l'hanno detto perché magari aspettano un altro po boh non lo so fatto sta che per il momento ora che sto registrando queste sono tutte le informazioni da sapere ma secondo voi mirko e Greta si sono mollati o non si sono mollati secondo me sì come la maggior parte degli utenti su twitter e la mia unica domanda è che fine farà il loro tatuaggio insieme si taglieranno un braccio se lo bruceranno vedete perché non dovete tatuarvi robe così presi dalla passione di una notte perché poi è durato un mese no non si fa raga basta ma questo è un altro discorso nel caso in cui ci fossero ovviamente delle novità spill in the sea with me cristiano cervini edizione temptation island è sempre pronto ripeto fatemi sapere tutto quello che volete voi qua sotto tramite commento e fatemi sapere cosa ne pensate di tutta questa storia se è vero come dice Greta che gli altri due stanno facendo tutta questa roba per aipe per continuare a far parlare di loro e lo penso anch'io ma io penso che sia una cosa tutta tutto è fatto per parlare di loro anche perché e ci stanno riuscendo perché quando mai noi abbiamo continuato a parlare temptation island a ottobre quasi a ottobre soprattutto delle persone lì ci stanno riuscendo ma boh basta anche meno nel senso ditecelo una volta per tutte basta ci siamo lasciati basta stiamo insieme siamo in un periodo di crisi così ma tutto questo a noi vecchi ciabattoni di periferia piace molto quindi se volete continuare d'altra parte continuate così ci riunite tutti per oggi però è tutto mettete piace a questo video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ci vediamo domani ciao e scusate per il viso da domani sarà tutto a modo